Ci troviamo sulla banchina del porto di Pesaro a pochi passi da dove termina Viale Trieste e dove alle nostre spalle sorgeva fino a pochi mesi fa il degradante consorzio agrario. Un edificio che si è trascinato per decenni di abbandono e che è stato demolito a fine novembre. Il suo posto è destinato a due nuovi palazzi di grosse dimensioni che prevedono la realizzazione di 74 appartamenti. Un progetto partito a vele spiegate ma ora è arrivato un non preventivato blocco ai lavori ed è tutto da decifrare quando potranno riprendere. Alla base dello stop c'è un'indagine della procura della repubblica alla quale si è rivolta anche la capitaneria di porto per un approfondimento sui permessi di costruzione rilasciati dal comune di Pesaro nella primavera del 2018. Non è in dubbio la possibilità di costruire sull'area dell'ex consorzio piuttosto la procura della repubblica avanzato perplessità sul fatto che in quell'area si possano costruire appartamenti ad uso residenziale e non a fini strettamente legati alle attività portuali. Motivo per cui i magistrati hanno chiesto un incidente probatorio sull'interpretazione del piano regolatore indagando nel frattempo tre persone per inosservanza delle norme dei regolamenti edilizi. Il legale rappresentante della società costruttrice Nova Portum Paolo Giorgini oltre al direttore e al progettista dei lavori. Il 12 marzo è prevista un'udienza nella quale un collegio di periti fornirà il parere sulle norme attuative del PRG. Una situazione paradossale che ha uno dei suoi motivi scatenanti in una mancata valutazione della Capitaneria di Porto nel 2018 all'ok ai lavori. Intanto però il comando della Capitaneria è cambiato, l'assenso ai lavori è arrivato tre anni fa così come tre anni fa si è demolito il consorzio e sono pure stati pagati più di due milioni di euro al comune di Pesaro come oneri di costruzione. Sconcerto fra chi deve costruire, ovvero una partnership fra un'azienda pesarese come la Renco e un fondo israeliano che un anno fa ha acquisito l'area del consorzio dall'azienda Carducci SRL. Ed è uno stop ai lavori ancora più imbarazzante dal fatto che circa l'80% dei 74 appartamenti che si costruiranno in quest'area hanno già ricevuto proposte d'acquisto vincolanti.